Spaventoso incidente stradale questa mattina sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, subito dopo lo svincolo di Petine, in carreggiata a sud. Una Fiat Punto con tre persone a bordo è andata fuori controllo per causa in corso di accertamento, sbandando e concludendo la sua corsa impazzita contro il guardrail ai margini della carreggiata. Come mostrano le impressionanti immagini, l'auto si è praticamente incastrata sotto il guardrail, con la parte anteriore ridotta ad un ammasso di lamiere. Da quanto si apprende delle tre persone all'interno, madre che guidava, figlia e figlio, solo la ragazza che viaggiava sul sedile anteriore sarebbe rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Polla dai sanitari dell'Humanitas per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illesi davvero miracolosamente, vista la dinamica, la signora e l'altro figlio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la polizia stradale di Sala Consilina e il personale dell'ANAS. Tra le possibili cause dell'incidente, l'asfalto reso viscido dalla pioggia delle ultime ore. Si raccomanda infatti prudenza alla guida, soprattutto in queste ore di peggioramento delle condizioni meteorologiche.